Fulvio Flocari sta facendo molto discutere la questione del forno crematorio con il comitato che si è formato con i cittadini. Qual è la posizione dell'amministrazione comunale? L'amministrazione ha ricevuto in eredità dal 2013 un bando portato avanti con una dichiarazione di pubblica utilità dalla Giunta T-Day per la realizzazione di un forno crematorio, che è un forno crematorio piccolo, quindi che ha soltanto una linea più una di scorta, quindi il minimo di dotazioni di linea di cremazione che sia possibile immaginare. Si tratta di una struttura che va a fatturare qualcosa, andrebbe a fatturare qualcosa attorno agli 800 mila euro anno. Oggi impedire la realizzazione del forno crematorio vuol dire comprare con i soldi che sono nelle tasche dei cittadini quindi una causa multimilionaria tipo quella della BEG, non so se ricordate, bisogna avere dei buoni motivi. A parte il fatto che noi risponderemo personalmente in corte dei conti, ma quello è l'ultimo dei nostri problemi, tra l'altro siamo assicurati. Però sono dei soldi che i cittadini dovrebbero pagare. Per quale motivo dovremmo impedire che si realizzi il forno crematorio? Perché inquina e produce tanto mercurio? Non è così in realtà. La struttura è una struttura piccola, immaginate che Roma ha un forno che ha sette linee, Roma gestisce in un anno tra cimiteri e forno crematorio 15.000 salme. Di queste 15.000 poco meno di 6.000 vanno incontro a cremazione, quindi l'intera capitale produce 5.800 cremazioni l'anno. Chi dice che a Civitavecchia si possono gestire 6.000 cremazioni l'anno è ridicolo. Si tratta di una struttura che stima circa a regime, quindi fra 5 anni 1.800 cremazioni l'anno. La quantità di mercurio, visto che ho sentito parlare di mercurio, prodotta con questi tipi di sistemi di cremazione, da 1.800 cremazioni in una città come Civitavecchia è una quantità di mercurio ridicola. Quando siamo entrati al municipio abbiamo trovato nel piano triennale delle opere qualcosa come 6 milioni di euro da investire in loculi. Quindi probabilmente il forno crematorio disturba qualcuno che aveva già pensato come lottizzare e gestire questa montagna di denaro. Sulla questione ambientale, sempre per quanto riguarda il forno crematorio, i medici per l'ambiente hanno un po' bocciato questa idea. Come ve la spiegate questa idea, questa posizione? Allora, io ho scritto alla società ISDE, che è la società dei medici dell'ambiente, perché ho chiesto se l'uscita di Giovanni Ghirga, del collega Giovanni Ghirga, sia un'uscita dei medici dell'ambiente, perché trovo anche curioso che un singolo possa utilizzare il simbolo dell'ISDE così liberamente. Non ho trovato traccia dell'intervento di Giovanni Ghirga sul sito dell'ISDE, quindi ritengo che sia una sua posizione personale e lo invito a non fare uso del simbolo dell'ISDE come se fosse una sua cosa di famiglia. Ho chiesto all'ISDE se la posizione di Giovanni in qualche modo si identifica con quella dell'ISDE e non ho ancora ricevuto risposta. Renderò pubblica la risposta che riceverò dall'ISDE. Sto progettando per settembre un evento pubblico con il quale far presentare dai esperti di entrambe le posizioni, chi è favorevole o chi è contrario, il progetto alla città, riparliamone, ma riparliamone senza strumentalizzazione e soprattutto ognuno si assuma il titolo della propria opinione. Grazie a tutti.